Rialmazzini, Rassantiago, girone D della Socce Cup, ecco l'abito Mr. Tyson Le due squadre si è presto ad andare al centro rampo per il saluto iniziale Rialmazzini, squadra tipo Saluto delle due squadre, la piana Deo Vieni capitano, vieni capitano, capitano Ecco adesso seguiremo il tocco, due capitani Palla, campo di tempo Scopo delle due squadre, un fatto di tocco, bocca l'uva a tutti e due Primo tempo, Rialmazzini, Rassantiago, girone D della Socce Cup Adesso seguiremo tutto il primo tempo Adesso seguiremo tutto il primo tempo Adesso seguiremo tutto il primo tempo Asse seguiremo tutto il primo tempo Adesso seguiremo tutto il primo tempo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti